Una domenica da incorniciare per il Trestina che prima della partita presenta gli oltre 250 bambini e ragazzi del settore giovanile e poi batte 2-0 il Terra Nuova Traiana portandosi al quarto posto della classifica a quota 15 punti. Quarto capo stagionale invece per i Toscani che rimangono fermi a quota 6. La formazione di Simone Marmorini parte forte e al sedicesimo sblocca la partita, assisti rovesciata di Bazzofia e piattone vincente di Dicato che non lascia scampa ad Ambrosio. Palla in rete e Trestina in vantaggio. Il Terra Nuova reagisce subito e al diciannovesimo il calcio di punizione di Cioce, deviato dalla barriera, diventa un cioccolatino per Benucci che però sbaglia clamorosamente la mira e il suo colpo di testa finisce a lato. Dall'altra parte Dicato imita Benucci e di testa sul cross dalla destra di Bazzofia non inquadra lo specchio da pochi passi. Il Trestina crea un'altra occasione al minuto 33 quando Dicato avvia il contropiede. Bazzofia apparecchia per il mancino di Gramaccia ma è decisiva la chiusura in scivolata di Gautieri che salva i suoi. Si va quindi all'intervallo con i bianconeri avanti 1-0 sul Terra Nuova Traiana. Ad inizio ripresa gli ospiti ci provano subito con questo destro di Sacconi disinnescato da Tosai. Dall'altra parte brevi a tentare la conclusione ma il suo destro finisce alto. La partita scorre via senza sussulti fino al minuto 77 quando tre neoentrati costruiscono l'azione che porta al 2-0 Trestina. Passaggio filtrante di Brunetti, assist di Convito e tap-in facile facile di Morlandi che spedisce in fondo al sacco la palla che di fatto chiude la partita. Dopo sei minuti di recupero l'arbitro Marco Schmidt fischia tre volte, finisce così al Casini. Trestina 2, Terra Nuova Traiana 0.